Eccomi sono io ragazzi, sono Gabri Costa. Oggi vi farò vedere l'introduzione di C&Co in questo Super Jam Fighter Mini Mix di Capcom Fighting Collection. Guardate tutti insieme come inizia questa introduzione di C&Co. Inizia che sta camminando, leggendo qualcosa. Quando finirà di leggere, comincerà la sua missione e la farà. Forse con il vostro aiuto ce la potrà fare. A questo punto non mi resta che salutarvi. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie per avermi seguito.